Subito dopo il crollo del ponte Morandi, di cui oggi ricorre il sesto anniversario, il ponte sulla Trimina in territorio di Civitanova del Sagno era stato chiuso per improcrastinabili lavori di messa in sicurezza. Ebbene oggi, a distanza di oltre un lustro dall'inizio del cantiere, finalmente il ponte è stato riaperto al traffico. Oltre ad aver ripristinato le parti ammalorate dei piloni che sostengono l'infrastruttura, la ditta che si è giudicata all'appalto ha provveduto a riasfaltare il ponte ed ha reinstallato il guardrail in base alle recenti normative in materia. Per gli automobilisti che percorrono quel tratto della Trimina, il cantiere sul ponte di Civitanova era divenuto un incubo. In special modo d'estate, in prossimità dei semafori posti nei due sensi di marcia, si creavano code chilometriche che procrastinavano notevolmente i tempi di percorrenza nel collegamento tra i Serni e San Salvo. Ora sulla Trimina restano, si fa per dire, solo tre cantieri su altrettanti ponti da mettere in sicurezza. I tempi di percorrenza, per soli 87 km, scendono da due ore a un'ora e mezza, almeno nei giorni di maggior traffico veicolare. Restano i disagi per gli automobilisti, ma se non altro il primo ostacolo è stato superato.